Ma più o meno le ruspe quando arriveranno? La voglia di farlo prima possibile, utilizzeremo il progetto ANAS già approvato che ha già tutte le autorizzazioni che andrà rivisto soprattutto nei prezzi perché sappiamo tutti che prezzi, quindi può tardare di un po' di tempo la speranza che nel 2023, diciamo l'anno intero, si possa vedere la prima ruspa se non sarà così sarà semplicemente un motivo burocratico perché il progetto c'è, i soldi ci sono, la volontà c'è e quindi a questo punto ci deve dare una mano anche la fortuna. Questa è la Tiberina Trebis, una strada che abbiamo imparato a conoscere un po' meglio dal gennaio 2019, quando la procura sequestrò per ragioni di sicurezza il viadotto Puleto lungo Re 45, dividendo in due l'Italia centrale in questa zona attraversata dall'importante arteria. Non serve un caso però così straordinario per bloccarla, i numerosi incidenti che spesso si verificano lungo la E45 determinano l'uso della cosiddetta viabilità alternativa. Nel comune di Pieve e Santo Stefano, siamo nella Val Tiberina Aretina la viabilità alternativa appunto è la Tiberina Trebis, ad oggi impraticabile. Un problema che si trascina da anni, come spesso capita in Italia adesso con un accordo quadro tra la provincia di Arezzo e quella di Forlì Cesena finalmente potranno partire i lavori di manutenzione straordinaria. Se noi abbiamo provato l'isolamento dal resto d'Italia sulla nostra pelle le nostre aziende, i nostri cittadini, quindi da quel momento lì mi sono messo in opera per ritrovare una soluzione. Devo dire che ho incontrato tantissimi amici che mi hanno dato una mano che non li voglio elencare, che però mi hanno aiutato a trovare la strada. La difficoltà era trovare un soggetto che avesse la capacità di poter a fine lavori garantire la viabilità alternativa alla I-45 e qui la provincia di Arezzo con la Presidente Tiazai ci ha messo l'asso fondamentale che dando la sua disponibilità a gestire i lavori nella fase di cantierizzazione e poi a riprendersela in carico come doveva essere fin dall'inizio ha spianato la strada alle iniziative del Comune di Piave Santo Stefano rivolte al Parlamento per vedersi attribuire i primi 5 milioni di euro. I primi 5 milioni di euro previsti in una normativa che oggi con questo accordo di programma manderemo al Ministero per vederseli riconoscere, verranno riconosciuti alla provincia per poterli mettere in atto. Però sono i primi perché noi dobbiamo dimostrare serietà e capacità di spesa perché già il Ministero dei Lavori Pubblici ha inviato la tabella per i successivi 25 milioni e qui la politica dovrà fare ancora il suo passo. Quindi oggi l'ha definito storico, è veramente storico. La Valtiberina insieme alla provincia di Arezzo della Presidente Tiazai ha trovato il modo e la forma per toglierci tutti quanti l'incubo che abbiamo vissuto nel 2019.